Il monitoraggio nelle scuole con i tamponi salivari agli alunni sotto i 12 anni sta dando ottime risposte nel senso che il campione esaminato non ha fatto emergere casi di positività ma allo stesso tempo i cluster che si stanno rilevando in provincia nel Cilento così come in costiera malfitana dove proprio oggi dopo sette mesi covid free si registra anche un casacce tara si stanno sviluppando in ambito scolastico a dirlo questa mattina il dottore arcangelo saggese tozzi responsabile covid dell'asla di salerno che parlando dell'andamento della campagna vaccinale delle terze dosi di rinforzo non ha mancato di sottolineare allo stesso tempo un certo rallentamento nell'adesione ai vaccini una dose di richiamo o booster di vaccini a rmna feizer o moderna e da ieri anche il via libera dell'aifa che prevede il richiamo dopo sei mesi dalla prima vaccinazione con una dose eterologa per chi ha fatto johnson e johnson il monitoraggio nelle scuole ci sta dando delle buone notizie nel senso che tutti i tamponi salivari effettuati fino adesso sono risultati negativi per cui i bambini al di sotto di 12 anni che non avevano potuto effettuare la vaccinazione in questo momento ci stanno dicendo che circola meno il virus tra di loro però dobbiamo anche tenere presente che in questo momento i cluster che si sono evidenziati in provincia a partire da centro o della zona che sono le due località più interessate la parte sud centro e la costiera sono dei cluster sviluppati in ambito scolastico noi nell'ultima settimana nel mondo scolastico tra professori addetti alla scuola e qualche ragazzo siamo a circa 150 positivi accertati con i tamponi molecolari classici e proprio per questa situazione è importantissimo che il personale scolastico rinforzi la protezione immunitaria e stiamo pronti a partire con la terza dose al personale scolastico ovviamente dobbiamo aspettare che siano trascorsi sei mesi dall'ultima inoculazione diciamo che visto che sono state fatte nel mese di maggio le seconde dosi al personale scolastico e forze dell'ordine che l'hanno fatto principalmente con astrazeneca da metà novembre partiremo anche in pieno col personale scolastico poi verranno direttamente ai nostri centri organizzeremo delle sedute dedicate troveremo un modo per cercare prima possibile di aumentare la copertura vaccinale in queste queste categorie perché quello che ci dicono i dati di questi giorni è che noi abbiamo una buona buon contenimento della della diffusione però abbiamo cluster specifici nelle situazioni di comunità a partire dalle scuole perciò dobbiamo innalzare la protezione nelle scuole vaccinando per le terze dosi il personale scolastico e sottolineando che le misure di precauzione in particolare negli ambienti come quelli scolastici per cui mascherine distanziamento lavaggio delle mani attenzione devono essere rispettate in modo ossessivo. Dottore l'appello che viene lanciato alle persone di presentarsi volontariamente quando ci sono i presupposti per la terza dose ma ad oggi c'è una risposta al 100 per cento della terza dose delle persone che già sono vaccinate a monte? Ad oggi c'è un certo rallentamento su questa frequentazione noi abbiamo vaccinato circa 17 mila persone con terze dosi se consideriamo abbiamo vaccinato più di un milione e 600 mila dosi totali non c'è una grandissima adesione in parte questo è dovuto anche alla situazione al raddoppio di vaccinazioni che si fanno in questo periodo perché si stanno facendo le vaccinazioni anche anche antinfluenzale ha una certa sensazione di tranquillità che era partita ma non dobbiamo averla perché i paesi intorno a noi ci dimostrano che il virus è ben presente e circola per cui è importantissimo che tutti ha raggiunto i sei mesi dall'ultima inoculazione si rechino anche senza convocazione oppure sei invitati perché stiamo facendo fare anche delle telefonate per invito presso i centri vaccinali sono sempre aperti e grazie grazie